Una debole e brevissima pioggia ha dato il via a questo weekend ferragostano, senza però guastare i programmi dei tantissimi vacanzieri che hanno raggiunto la Sicilia per la settimana clou dell'estate 2024 e senza particolare incidenza sulla grave siccità che attanaglia l'isola. Tutta colpa o merito di una depressione che dal Mediterraneo occidentale si sta portando gradualmente verso Levante, agganciata da una saccatura atlantica in arrivo sulla penisola e che sta generando un cambio di circolazione che apporterà in primis un piacevole calo termico e a seguire una maggiore instabilità con il rischio di rovesci e temporali. Per la giornata di oggi, sabato 17 agosto, l'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, con qualche variazione sul tema. Sul versante tirrenico, in particolare, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Al pomeriggio la pioggia che questa mattina ha interessato l'area tirrenico nebroidea transiterà sul versante ionico, con possibili temporali estivi in assorbimento verso sera. Sul resto dell'isola, cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Venti deboli occidentali in attenuazione. Mari, basso tirreno da quasi calmo a mosso, canale poco mosso, mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso. Domani, domenica 18 agosto, correnti secche faranno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Possibili pioggia al mattino sulle olie, mentre sul resto della costa tirrenica cieli poco parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio pioggia, in particolare sui nebrodi e verso le aree interne, che si protrarranno fino a sera. Sul resto dell'isola, cieli nuvolosi o coperti, con possibili piogge nell'entroterra tra Grigentino e Palermitano. Venti deboli occidentali in attenuazione. Per i mari, basso tirreno e canale da poco mossi a mossi, mare di Sicilia poco mosso. Lunedì ancora fenomeni temporaleschi nell'area tirrenica del Messinese, che andranno spostandosi gradualmente verso est, fino a raggiungere il versante ionico. Sul resto dell'isola, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, salvo la presenza di qualche addensamento. Per quanto riguarda le temperature, infine, si registrerà un calo di qualche grado, sia nei valori massimi che minimi, particolarmente apprezzabile lunedì 19 agosto.